Siamo ancora una volta in collegamento diretto con Pierluigi De Pascalis all'interno del Fizzone Morning, abbiamo risveglio muscolare, il nostro preparatore atletico è qui, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, ben ritrovato, buongiorno. Oggi parliamo del dolore dei grassi, che significa Pierluigi? Il dolore dei grassi, noi facciamo sempre riferimento, ovviamente mi piace precisarlo, a degli studi scientifici dei quali ho il piacere poi sempre di dire quali sono perché qualcuno magari vuole andare ad approfondire e questo è estremamente importante, è stato condotto presso l'Università del Texas su come i grassi possono avere un'influenza per quanto riguarda le condizioni dolorose causate da stati infiammatori come l'artrite, interventi chirurgici, traumi o anche per quanto riguarda problemi che insorgono a seguito di altre patologie come per esempio il diabete, quindi parliamo di dolore neuropatico. Questo studio che ha richiesto veramente una mole enorme di tempo e di lavoro, oltre 5 anni, un team di 15 ricercatori che è stato pubblicato sulla rivista Nature Metabolism ha fatto individuare come il tipo di alimentazione che noi purtroppo facciamo, l'alimentazione tipicamente occidentale, dove c'è una grande presenza di acidi grassi che vanno sotto il nome di Omega 6, che insomma i nostri amici sicuramente avranno sentito citare, che sono certamente importanti, ma a causa di uno sbilanciamento rispetto a quelli che sono gli Omega 3, cioè un'altra classe di acidi grassi importanti, determina un incremento di questi stati dolorosi. Quindi occorrerebbe modificare un po' l'alimentazione andando a ricercare soprattutto queste fonti come il pesce o anche fonti vegetali come i selimi di lino, le noci, che contengono una maggiore quantità di Omega 3. Quindi diciamolo, basterebbe cambiare alimentazione per migliorare la situazione? E sembra strano però tante volte l'alimentazione in questo caso specifico è in grado davvero di intervenire. Noi molto spesso andiamo a cercare delle cose strane, stravaganti anche e mi consentirete un po' per agire su quella che è la nostra pigrizia. Questo è un periodo storico in cui tutti quanti puntano in dito contro Big Pharma, Big Pharma, però alla fine se dobbiamo poi essere noi attivamente chiamati in causa per migliorare la nostra condizione, molto spesso preferiamo rivolgerci ad un farmaco piuttosto che andare a modificare la situazione. Anche perché oltre a essere vero naturalmente quanto è emesso nello studio, è però altrettanto vero. Prima abbiamo citato il dolore neuropatico per esempio come conseguenza anche del diabete, ma anche gli stati infiammatori che possono essere conseguenza del sovrappeso. Quindi sono tutte quante delle conseguenze. Quindi è vero che l'alimentazione può intervenire efficacemente nel ridurre, nel modulare la sensazione di dolore, ma se anziché aspettare di trovarci in queste circostanze noi cominciassimo ad adottare una buona alimentazione, una buona attività fisica già prima, eviteremo verosimilmente proprio del tutto la comparsa di questo genere di problemi che sono evidentemente, visto che parlavamo di conseguenze, proprio la conseguenza della nostra inattività e di una corretta alimentazione. Quindi miglioriamo l'alimentazione, miglioriamo l'allenamento, se riusciamo a prevenire è ancora meglio. Grazie al nostro Pierluigi De Pascalis, buona giornata! Buona giornata!